Barbara D'Urso è ormai una vera e propria forza e nessuno sembra poter arginare il suo successo Sono in tanti quelli che si lamentano del suo modo di condurre e di quello che riesce a fare in diretta ma sono tantissimi, forse in gran parte, quelli che continuano a premiarla tutti i pomeriggi Da Domenica Live, dove soffre un po' per via dell'ottima concorrenza di Mara Venner, a pomeriggio 5, la D'Urso continua a mietere successi e ieri ha registrato, dopo tre mesi dall'inizio di questa edizione, un vero e proprio record stagionale che l'ha portata ben al di sopra del 20% di Sherry in un martedì pomeriggio qualunque Dall'altra parte, invece, c'è la grande foga del pubblico visto che proprio ieri la vita in diretta è stata letteralmente atterrata quotandosi intorno all'11% di Sherry lasciandosi superare addirittura da Rai 3 e la lieta sorpresa di Geo Pomeriggio 5 si è confermato comunque il leader assoluto della sua fascia con 2473 0,000 e il 21,06% nella prima parte 2.491.018.73% nella seconda staccando di quasi 7 punti Rai 1 I temi della puntata.Ance Oggi Pomeriggio 5 prenderà il via alle 17,10 su Canale 5 con una prima parte dedicata alla cronaca e ai casi di truffa e violenza, temi tanto cari alla conduttrice e da sempre al centro delle sue battaglie Al momento sui social sono davvero pochi dettagli sulla nuova puntata del programma ma quello che sappiamo è che nella seconda parte, quella dedicata al gossip e al trash, ci sarà Claudia Letizia Lei stessa lo ha annunciato sui social poco fa dicendo che sarà in studio dalle 18 00 in poi proprio per l'ultima parte del programma. Quale sarà il tema? Si parlerà ancora di Grande Fratello VIP dopo il successo di ieri o si tornerà ad occuparsi di diete, ritocchini e tutti gli argomenti che di solito sono al centro delle puntate di Pomeriggio 5 Le prime rivelazioni arriveranno con il promo che andrà in onda su Canale 5 intorno alle 17 00, qualche minuto prima dell'inizio della puntata Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like